Il capo della polizia e il prefetto Lamberto Giannini per la prima delle due giornate organizzate dalla questura di Brindisi per celebrare i 30 anni dell'istituzione del commissariato di pubblica sicurezza di Mesagne. Era il 15 marzo 1992, il primo giorno operativo. Da allora la lotta alla criminalità ha dato frutti e risultati inaspettati. Al castello Normanno di Mesagne gli interventi del sindaco Toni Matarrelli, del questore di Brindisi Ferdinando Rossi e del capo della polizia Lamberto Giannini. Poi l'inaugurazione della mostra dal titolo Dal buio alla luce, con la quale sono stati ripercorsi tre decenni del commissariato di Mesagne, del lavoro, delle forze dell'ordine. Infine l'annullo filatelico nell'atrio del Maniero. Presenti tra gli altri il prefetto di Brindisi, Bellantoni, il sindaco della città triatica Rossi e le più alte cariche della magistratura, tra cui il procuratore De Donno e l'ex procuratore antimafia Motta. Queste le parole del capo della polizia e il prefetto Lamberto Giannini al termine dell'evento. È una giornata davvero importante perché vengono affermati dei valori di legalità e poi perché fa veramente piacere vedere il frutto del sacrificio e del lavoro di tanti colleghi, il frutto di scelte illuminate che sono state fatte dall'amministrazione e dalla politica di stabilire lì dove ci stavano delle grandi difficoltà, un segnale di presenza tangibile, un presidio di legalità, lavoro, l'impegno e vedere come la cittadinanza, anche consapevole, ripeto, che questi valori e questi beni debbono essere conquistati giorno per giorno perché non si deve mai cedere di un passo all'illegalità.